Salve a tutti ragazzi, io sono Matt e siamo bentornati in questo nuovo episodio della Carlinatoria con il Venezia qui su E22. Questo oggi è un episodio particolare perché ci porterà un po' al mercato invernale, nel senso che di sicure vedremo Milan, Salernitana, Nizza e probabilmente Sassuolo di partite che sicuramente vedremo. Non so ancora se giocare quella con la Juventus, non so se giocare quella con il Nizza e simulare magari Salernitana e Sassuolo, ancora bene, non so, in realtà comunque Champions League potremmo tranquillamente simularcela che tanto siamo già qualificati come primi, metterò sicuramente Pullu titolare giusto per farlo giocare perché piacerebbe che mantenesse questa striscia di partite giocate. Giocheremo sicuramente la gara contro il Milan, adesso poi ne parleremo bene durante l'episodio. Vi ricordo il gruppo Telegram e il mio profilo Instagram per essere sempre aggiornati con quello che succede intorno al canale e al secondo canale, perché al secondo canale sto pubblicando il recap dell'explay di Days Gone, fatto l'anno scorso in realtà, comunque è finito l'inizio di quest'anno e adesso uscirà probabilmente un gioco nuovo, perché non ve lo spoiler ancora per chi è su YouTube, perché vi tengo sulle spine, però potrebbero succedere cose nuove in questi giorni, quindi tenete d'occhio anche il canale Viola, sempre in descrizione. Io mi andrei a giocare la partita contro il Milan, che è molto importante perché noi adesso siamo primi con 26 punti, c'è poi il secondo del Las Verona con 25, 23 Napoli, Juventus ed Atalanta, 22 la Fiorentina, 21 Inter e Sassuolo, 19 Cagliari, 19 il Milan, quindi il Milan è decimo ma ha 7 punti da noi, quindi non è proprio così tanto 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 distante. Voglio cercare di mantenere un po' il trend delle scorse puntate, degli scorsi episodi, quindi segnando parecchio, subendo poco. Speriamo di riuscirci perché potrebbe davvero essere questa la stagione per cui puntare allo scudetto, ma è presto per dirlo, non ci voglio pensare troppo. Non mi riesce a migliori giocatori di novembre, c'è Pululu, c'è Esposito, ma sicuramente vincerà Bailey o comunque un altro che non sarà dei nostri, ma lo scopriremo nel corso dell'episodio. Vi rimando alle grafiche per la partita e per le nostre formazioni. Torna in campo il nostro Venezia, Audero tra i palli, difesa 3 con Lovato, Bremer e Carboni. Centrocampo a 4 con Kessime e Kenny centrali in buco ed ups sulle fasce, sulla tre quarti Kozlovski, attacco formato invece da Pululu ed Esposito. Un attacco che sta facendo molto bene in questo campionato, un attacco che sta facendo molto bene in questa stagione in generale perché in Champions League il miglior marcatore del torneo è proprio Fiemico Pululu. In campionato deve ancora ingranare un pochettino, 7 gol in 13 partite. Dall'altra parte c'è il Milan che deve ingranare come squadra, attualmente decima in classifica, ma meno 7 dal Venezia primo. Tata Rusanu tra i pali per Mister Pioli, Mbemba, Pereira, Conti ed Hernandez in difesa. Renato Sanchez, Tonali capitano a centrocampo con linea 3 formata da Krunic, Grifo e Adli. Grifo sulla fascia sinistra e Dolberg punta centrale. Comincia Venezia contro Milan. Altra partita molto importante per il nostro percorso nel campionato. cerchiamo di far bene, cerchiamo di far come abbiamo fatto nelle ultime partite. Quindi subir poco e creare molto. Vai Pululu. Pululu! Subito così. Venezia 1, Milan 0. Ci mette la fotografia. Fiemico Pululu. Mi hanno giusto detto. In campionato ha fatto pochino. Ottavo gol in Serie A. Subito inserisce le spalle della difesa. Tata Rusanu. Diventa pausa man. E 1 a 0. Grifo, Krunic, Dolberg! Risponde subito il Milan. Colpo su colpo. 1 a 1. Pareggia Conti. La squadra ospite. con Kasper Dolberg. Dolberg. Spazio per Adli. Al centro. Grifo! Arriva a calciare al volo. 2 a 1. Milan in vantaggio. Pululu. Kozlovski. Apre su Aps. Bella. Al centro c'è Esposito. L'ha visto? Esposito! Tata Rusanu. Questa volta ci mette se stesso per parare. E in qualche modo evita il 2 a 2. Pululu. McKennie. Aspetta Mbuku perché è scattato. Vai Mbuku. Visto da McKennie. Mbuku. Aspetta. Pululu servito. Vai Pululu. A incrociare. Tata Rusanu in calcio ad angolo. Intanto viene ammonito Aps. Cowell. Ha visto Esposito. Ha visto anche Mbuku. L'apertura sulla sinistra. Mbuku per Pululu. Vai Pululu. Cowell. Esposito. A spazio. Esposito! Bravo Sebastiano. 2 a 2. Pareggia i conti. Il Venezia. Con una grande azione. Firmata. Cowell. Pululu. Poi palla per Esposito. E 2 a 2. Che si. Sguarda al centro. Esposito. Pululu. Si gira a destro. Tata Rusanu. Grifo. Brahim Dias. Attenzione alla palla per Anthony. Buca. La difesa. Buca Udero. 2 a 3. Il Milan è in vantaggio. Ancora una volta. Con Anthony. Chiude lui. Mbuku. Palla troppo corta. Finisce qui. Venezia. Milan. 2 a 3. Vinco in rosso neri. Dopo una grande striscia positiva di risultati delle Venezia. Arriva il Milan. Alpenzo. Ad interromperla. Una Venezia che si è comportato bene. Devo dire. Comunque in questa partita ha fatto una grande ripartenza sul gol del 2 a 2 con Esposito. Pioli rientra negli spogliatoi. Finisce qui. 3 a 2. Adesso il Venezia deve ritrovare i punti in campionato contro la Salernitana. Allora. La classifica è incredibile ragazzi. 26 punti. Noi. 26 punti. La Juventus. 26 punti. L'Atalanta. 25 la Las Verona. 24 l'Inter. 24 il Sassuolo. 23 il Napoli. 22 Fiorentina e Milan. E poi oltretutto c'è anche la Lazio a 20. Quindi è un campionato veramente molto 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 aperto. Andiamo a simularci la gara contro la Salernitana. In realtà sperando in un risultato positivo. Perché sarebbe fondamentale per la nostra corsa allo scudetto. Dai. Simulata. 1-1. Siamo legati al pareggio nelle simulazioni. Ma va bene. Va bene che si pareggia Selke all'86. Probabilmente perdiamo la testa della classifica. Sicuramente. Perché comunque tutte le squadre sono lì. Basta una vittoria di qualcuno e andiamo giù. Però ci può stare. facciamo rifiatare anche il nostro alter ego. Mbuku ci ringrazia. Prestazione autorevole. Non so come tu sia andato in realtà Mbuku. Ma va bene così. Voglio dare un'occhiata alla classifica. Perché sono curioso ragazzi. Siamo secondi adesso con 27. 27 anche l'Atalanta. 26 il Napoli. Il Verona. 29 la Juve. Va bene. Va bene. Va bene. Ci sto. Ci sto. Simulerei anche con la stessa formazione. Se non Rafinha sulla tre quarti. E Raskin. Centrocampo. Metteremo magari Davidoviz. E Domo Vambidele. Che torna dall'infortunio. A simulare la gara contro il Nizza. Quindi in realtà veramente qualsiasi risultato ci capita. Andrà bene. comunque siamo primi. Comunque abbiamo già passato il girone. Mi piacerebbe mantenere la striscia almeno positiva. Quindi almeno il pareggio. Nonostante in realtà Nizza si stia giocando il tutto per tutto. Simulazione veloce. Ed. 3 a 1. Perdiamo contro Nizza. Segna Pululu. Sono contento in realtà. Mi bastava che segnasse Pululu. segnano Sima. Kent. E Delor. Ragazzi. In questa stagione dobbiamo simulare poco. Grazie per aver concesso la possibilità di giocare. Apprezzo il tuo impegno Rafinha. Apprezzo il tuo impegno. Potrebbero già esserci i sorteggi? No. E andiamo a farci la confidenza stampa per partita. Dai. Partecipa. Speriamo in domande. Avete disputato una buona stagione finora. Ci sono tutti presupposti per andare in Champions League il prossimo anno. Riuscirete a dare continuità a questi risultati? Tutti i giocatori danno fra la loro parte. Potevamo sperare una partenza migliore. Fin qui sono stati fantastici. Poi in realtà appunto l'obiettivo è sempre quello. Sassuolo e Venezia sembrano equivalersi almeno sulla carta. Come apprecerete questo match? Dobbiamo pensare a giocare bene. Perché forse è quello che è mancato un po' nella scorsa partita. La sua squadra è in un ottimo momento. Credo che riuscirete a confermarvi sugli stessi livelli anche nelle prossime partite. Dobbiamo evitare le disattenzioni. Domande top. I miei risultati sono stati eccellenti. Guai però a distrarci. Grazie e chiudiamo qui con le domande. Mi dispiace. Mi dispiace. Audero tra i pali nella neve. Nella Venezia. Davidoviz, Bremer, Carboni in difesa. Chessi, McKennie, Bucu e Delcerragui a centrocampo. Con Rafinha sulla tre quarti. Davanti il duo, il Dynamic Duo. Pululu e Sposito per cercare gol contro questo Sassuolo. Sassuolo che sta facendo un buon campionato. Tante squadre stanno facendo un buon campionato così come anche ad esempio l'Elas Verona su tutte. Sta stupendo. Il Venezia cerca di mantenere l'obiettivo Champions League e sognare in grande. Questo oggi proverà a cercare di nuovo punti contro il Sassuolo. Non sarà facile. Consigli tra i pali. Müller. Timber, Luperto, Maffeo e Taylor in difesa. Centrocampo McGinn ed Enrique. Capitano dei Nero Verdi. Araslin, Puertas e Traore. Dietro all'unica punta che è Abel Ruiz. Ex di Mr. Mattex. E ragazzi, c'è la neve. Buona partita. Esposito. Pululu. Nello spazio c'è il Cerawi. Vai al Cerawi. Il Faraone. Aspetta. Esposito. C'è anche Pululu. Servito Pululu. Si gira Pululu. Destro. Consigli. Serve un buco in profondità. C'è Rafinha. Passaggio corto. Rafinha. Destro. Sorprende tutti. Ci pensa Rafinha. 1-0 Venezia. Una grande azione soprattutto di Mbuku che si è fatto vedere. Poi Rafinha al centro ha sfruttato questa occasione qui. Inganna tutti e fa 1-0. Pululu. Vai Rafinha. Bello il passaggio per Rafinha di Pululu. Vai Rafinha. Al centro. Danno sguardo. Poi salta Luperto. Ci prova col destro. Centrale per consigli. Ma altra grande azione del Venezia e di Rafinha. Andrà il recupero. Carboni di testa. Chiude Puertas ma fa un pallonetto ad Audero. 1-1. Sa solo pareggia i conti. Un autogol di Carboni. Al centro c'è Esposito. Visto. Servito Esposito. Consigli. Poi Pululu. Calcio alto. Viene chiuso. Rafinha. Attacco di Davidoviz per McKennie. Consigli. In qualche modo. Trova una parata spettacolare. Nel resto proprio cavo e la battere. Corto per Pululu. Si gira. Afimico. Pululu. Consigli. Attenzione Rossi. Sguardo al centro. Traore. Davidoviz se lo perde. 2-1 Sassuolo. Venezia. Un po' ridimensionato in questo episodio. Prima col Milan. E adesso col Sassuolo. 2-1. Che sì. Cowell. Esposito al tocco sotto per Pululu. Ci pensa Pululu. 2-2. Alza. Alza il tono. Il Penzo. Per questo gol di Pululu. 2-2. Finisce qui. Venezia contro Sassuolo. All'ultimo respiro. All'ultimo fiato di questa partita. Ci ha pensato Pululu. 2-2. Un pareggio importante perché evita la sconfitta. Pululu poi ha qualcosa da dire anche con Abel Ruiz. Hanno tutti da consigli. A chiedergli un po' il suo cognome. Giusto così. 2-2. Ci torna a casa con un pareggio. Si rientra con un solo punto. Spiace perché in tre partite abbiamo fatto due punti. Però ci sta. Abbiamo solo fatto vittorie ultimamente. Sorteggio ottavi di Champions League. Sorteggio degli ottavi di Champions League. Venezia contro Young Boys. Venezia contro Young Boys. Vabbè. Allora, lo Young Boys è forse in realtà la migliore squadra che ci potrà capitare in questo sorteggio. Perché c'erano delle seconde molto agguerite. Molto, molto agguerite. Poi abbiamo Liverpool-Milano, Manchester United-Atletico-Madrid. Molto reale questa partita. Borussia Dortmund contro Real Madrid. Barcelona-Salisburgo. Chelsea-Juve. Leverkusen City. E Paris-Bayern-Monaco. Ammazza, ragazzi. Andiamo a giocarci la gara contro la Juventus. Attualmente prima in classifica. Meno... Cioè, più 4 su di noi. Dobbiamo fare attenzione. Perché c'è Milan. E della Sverona 26. 25 la Fiorentina. 24 la Lazio. Eccetera, eccetera. Noi siamo a 28. Pari punti con l'Inter. 29, Sassuolo e Napoli. Napoli che gioca contro l'Udinese, Milan-Torino, Inter-Spezia. È una giornata particolare. Contando che appunto il Sassuolo ha 29 punti. Ma ha le nostre stesse... Cioè, ha una partita in più. Scusatemi. Anche l'Atalanta ha una partita in più con i nostri punti. Vediamo che possiamo fare. Contro la Juventus è sempre un'incognita. E ve lo dico già. Non aspettatevi un partitone. Secondo me. Anzi, prenderemo molti gol. Ma vedremo. Si torna in campo con la Juventus. Schierascesni tra i palli. Wendell, Kimpembe, Lodi e Gio Gomez in difesa. Berwin, Goretzka a centrocampo. Poi la disposizione ovviamente cambia. Kudus, Jattaren e Mandragora che ritorna in bianconero. Kevin Folland, Monica Punta. Kevin Folland che è il miglior marcatore attualmente della Serie A. Abbiamo visto in panchina anche un certo di bala. Che qui è rimasto la Juventus. Una panchina di lusso per i bianconeri. Di casa oggi. Che ospitano un Venezia un po' in difficoltà in questo episodio. Ma in realtà l'obiettivo stagionale è quello di riqualificarsi per i giorni di Champions League. Così per adesso la Venezia sta facendo a Udero. Tra i pali confermato. Carboni, Davidoviz e Bremeri. Tre centrali che non si cambiano a centrocampo. Che sì, McKennie in buco e del Ciarawi. Sono tre quarti da figna. Due d'attacco formato da Pululio Desposito. Non cambia la formazione rispetto alla gara contro il Sassuolo. Il Venezia sta giocando bene. Diciamo che alcuni fatti non permettono magari la vittoria o il pareggio nel caso della partita contro il Milan. Però Venezia comunque si sta comportando bene. E così mantiene la disposizione. Cambiano però Esposito e Pululio. Cambiano in realtà solamente direzione. Uno sulla sinistra, l'altro sulla destra. Pululio subito chiuso. C'è Rafinha. Servito destro di Rafinha. Che calcio alto. Prima grande chance per il Venezia. Attenzione all'inserimento al centro. Mandragola prova a essere chiuso da Chessy. Ma un tiro spettacolare di Mandragola. Il primo in porta della Juventus. Porta in vantaggio. Proprio la squadra di casa. Audero bucato. 1-0. Goretzka. Attenzione. Kudus. Davidoviz. Poi Berwin. Ancora Davidoviz. Goretzka. Audero. 2-0. La Juventus raddoppia il suo vantaggio. Goretzka. Iattaren. Destro. Audero in calcio d'angolo. Rafinha può aprire sulla destra verso Mbuku. Servito. Trovato. Vai in Mbuku. Al centro c'è Pululio. Mbuku l'ha visto. Prova a servirlo. Pululio. Si gira. Mancino. Kimpembe. Folland sguardo al centro. Chiude Davidoviz su Kudus. Poi la palla resta lì. Davidoviz. Ancora sulla linea. Che sì. Cowell viene chiuso. Attenzione adesso la palla per Kudus. Bremen in profondità. Di Bala. 3-0. Paolo Di Bala. Entra e segna. Così. Chiude la partita. Mantiene il pallone sui piedi. Poi Mbuku sguardo al centro. Tra l'indietro avrà proprio McKennie. L'ex di questa partita. Palla per Pululu. Scesni. Palla corta per Di Marco. C'è Cowell. Che si gira. Prova al destro Cowell. Pululu. A porta vuota. Fa il 3-1. Ma è in fuorigioco. Finisce qui. 3-0. Me lo aspettavo. Avevo fatto la premessa iniziale. Prima di questa partita. Già col Milan qualcosa mi puzzava. Col Sassolo un po' siamo riusciti a tenere la CPU. Con la Juventus niente da fare. 3-0. In una partita. Ragazzi. Per chi l'ha vista in live. Molto strana. Molto molto strana. Flipper. È diventata praticamente una pallottoliera. La Juventus. Tiri su tiri. E si è riuscita a far poco. Si è riuscita a far poco. Quando erano davanti alla porta. Ci hanno sempre chiuso. Ma va bene così. Va bene così. La Juventus è quella probabilmente candidata a vincere il campionato. Quindi. Ci sto. Ci sto. Aggiornamenti degli osservatori. Che provano a portarci buone notizie. C'è Antonio Sorrentino. Samuel Ferrara. Poca roba in Italia in realtà. Andiamo al prossimo. Next. Anche qua un pochino. C'è Nicolas Barnes. Che sembra interessante. Proviamo ad ingaggiarlo. Magari col cambio ruolo riesce a diventare un buon giocatore di calcio. Anche qui. Per il resto. Lascire così. C'è Tristan Bennett. Che continuerei a seguire. Il resto poi li caccio ragazzi. In Giappone. In Giappone. Di forte. Forse Kenji Suzuki. Però. Però. Potenziale anche qui. Abbastanza bassino. Abbastanza bassino. Vedi anche fare. Vedi anche fare. Caccerei abbastanza tutti in realtà. Nel senso. Essendo nelle ultime stagioni. Preferirei prendere quelli proprio più promettenti. Quelli che possono davvero dare qualcosina in più. E. Onestamente. Quelli lì. Non mi sembrano. Non mi sembrano. Sti campioni. Quindi però. Passa ad ATT. Vediamo se cambia qualcosa. Anzi. Da ATT a COC. Più 6. Più 6. Molto bene. Molto molto bene. 5 settimane. Regista avanzato. Con visione. Più che altro è così. Si alza il piede debole. Poi modifichiamo. E lo facciamo. Dientare anche un pochino più forte. Con le mossabilità. E con la velocità. Però. GG. Busio. Ceduto in presito. Singo. Se ne è andato al West Ham. Ramadani. Ceduto in presito. Bene. Giocatore rientro dal presito. Biarkazon. Siamo giunti dunque alla fine di questo episodio. Siamo quinti in classifica. A meno 3 dal dal secondo posto. A meno 7 dal primo. La Juventus è sembrata un po' infermabile ultimamente. Noi nonostante la nostra gran striscia vincente dello scorso episodio. Ci fermiamo un attimo. Due sconfitte contro Milan e Juventus. Pareggio con Sassuolo e Salernitana. Diciamo che potevamo far meglio. Potevamo far meglio. Mi aspettavo magari un pareggio con Milan. Una vittoria con Sassuolo e Salernitana. E la sconfitta con la Juventus ci sta. Ma ci sta anche adesso essere quinti. Siamo a 28 punti. Pari punti con l'Atalanta. Siamo a più 1 su della Sverona. E a più 2 sulla Fiorentina. Siamo a meno 1 dal Sassuolo. A meno 2 dal Napoli. A meno 3 dall'Inter. Questa è una classifica molto 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 corta. 26 punti anche il Milan. Sono tutte lì. Sono tutte. Sono tutte lì. Per il prossimo episodio ragazzi vedremo il calcio mercato. Abbiamo tutto gennaio da farci. Probabilmente simuleremo la gara contro la Samp. E quella col Bologna. Giocandoci magari la Coppa Italia col Crotone. Lazio e Roma. Per quanto riguarda il campionato. Tenete d'occhio Instagram e Telegram in descrizione. Vi lascio sempre i link pronti. Ci vediamo prossimamente in live. Non so ancora dirvi quando. Per questo dovete tenere d'occhio gruppi e tutto. Vi farò sapere qualcosa. Vi farò sapere qualcosa. Perché ci sono novità in ballo. Noi ci vediamo alla prossima. Sempre qui sul mio canale. Mi raccomando. Per chi in live non scappate. Che facciamo un bel raidino. Noi ci vediamo alla prossima. Sempre qui sul mio canale. Un bacione. Un salutone. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.